Nuovi bandi per la prima infanzia, Assessore Sclocco, sono arrivati quasi 2 milioni di euro dalle fondazioni bancarie. Sì, le fondazioni bancarie hanno fatto un protocollo d'intesa con il governo e hanno messo a disposizione 12 milioni di euro in tre anni attraverso un avviso fatto dall'impresa sociale con i bambini, un avviso rivolto a tutto il territorio nazionale che appunto premiava con 12 milioni di euro progetti sperimentari per l'infanzia. Io sono felicissima perché all'Abruzzo, alle Marche, al Molise e all'Umbria sono stati destinati 3 milioni di euro, 1 milione e 9 l'ha vinto l'Abruzzo perché su 8 progetti, 3 progetti premiati sono della regione Abruzzo, ricadranno nella regione Abruzzo. La regione Abruzzo è partner di tutti e tre i progetti ma i tre progetti hanno un partenariato ampio, ci sono delle associazioni che saranno le capofila e che ricadono su Pescara, su Chieti, su Bucchianico e su Teramo e sono veramente molto contenta perché i progetti sono assolutamente sperimentali, all'avanguardia e daranno una risposta davvero concreta sul territorio. L'obiettivo è quello di eliminare il più possibile la povertà educativa, culturale, sociale ed economica che colpisce le famiglie e quindi purtroppo anche i bambini.